Welcome friends! Ciao amici! Benvenuti nuovamente sul mio canale TecnoDevice. Oggi abbiamo qui un faretto da giardino un faretto a energia solare che si aziona tramite l'interruttore posto sul retro on e off ok a 8 led questo faretto c'ha un'autonomia quando è carico di 8000 ore e per ricaricarlo ci vogliono la bellezza di 8 ore di luce. Il faretto è impermeabile in ABS e ha una batteria da 500 mAh. 2 volt 0,5 watt. arrivato da Gearbest, per questo ringraziamo Gearbest però ne ho ordinati 3, 2 li ha acquistati la mia amica Renata e uno l'ho acquistato personalmente io. Questo faretto come detto prima è da giardino ok lo infilate nel giardino e adesso andremo a vederlo e il gioco è fatto! cosa è ragazzi è tutto se siete interessati a questa tipologia di faretto vi lascio il link in descrizione troverete tre modelli diversi ok e al prossimo video ciao